La tragedia di Prato ha riacceso i riflettori sulla presenza cinese in Toscana. Sono oltre 46.000 cittadini provenienti dal paese asiatico e residenti in regione. Di questi, 13.000 vivono stabilmente nella città pratese. La presenza cinese nell'Aretino è ancora ben distante dalle cifre pratesi. Secondo le stime ufficiali del rapporto Vivere Insieme, realizzato dalla provincia di Arezzo, qui vive circa un migliaio di cinesi, pari a quasi il 3% della popolazione straniera residente. Una percentuale in lenta ma costante crescita negli ultimi anni, a cui va aggiunta una quota di irregolari. La presenza cinese in città si concentra soprattutto nel quartiere multiculturale per eccellenza, ovvero Saione, seguito dalla zona fiorentina. Crescono anche le imprese gestite da immigrati di questa nazionalità. Quasi il 6% degli imprenditori stranieri nell'Aretino è di origine cinese, una realtà ancora lontana da presenze numericamente più importanti come quelle rumene e albanesi. Il commercio resta il settore in cui sono maggiormente impegnati i cinesi. Dimostrazione sono le acquisizioni di diversi spazi commerciali in tutto il territorio provinciale. Buono anche il giro d'affari attorno al settore della ristorazione, che ha il suo punto di forza nell'offerta a basso costo. Presenza cinese in crescita anche fra i banchi di scuola, anche qui però con cifre tutto sommato ancora basse. Secondo il rapporto Il Mondo a Scuola, sono 166 alunni provenienti dal paese asiatico iscritti all'anno scolastico 2012-2013. L'anno precedente erano stati 151. La quota più importante è iscritta alla scuola primaria ed è composta da ragazzi di seconda generazione nati in Italia.